ciao a tutti e benvenuti su cantare r&b mi presento io sono alessia ma potete chiamarmi ale oggi vediamo il secondo live di x factor prima di tutto ragazzi come sempre vi ricordo se vi fa piacere aiutare il mio canale di mettere un bel like proprio in questo momento diciamo per aiutarmi a tirare avanti questa avventura vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di schiacciare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati è arrivato il momento di elma ho già visto il video e vi posso già dire che è l'assegnazione più sbagliata che potesse darle mi è dispiaciuto per lei mi è dispiaciuto perché mentalmente penso che un'assegnazione del genere possa cominciare a creare dei pensieri negativi nella testa di elma che invece non dovrebbe avere perché in realtà lei è brava la frustrazione può essere un motore molto pericoloso e la frustrazione deriva da un errore del coach non della cantante perché gli ha dato da fare try di pink che ha una vocalità totalmente diversa da elma che è una cantante a cui manca la spinta il contrario di pink che ha questa potenza tra l'altro try è una canzone che ho cantato e ha delle difficoltà vocali non è una canzonetta ha bisogno di molta potenza di molta risonanza ha dei salti jake non ci siamo proprio si vede che non sai niente di voce c'è la voce di pink in quel pezzo elma non ce l'ha questo non fa parte di lei io sono sconvolta di fare il meglio lei a me piace un sacco è carinissima è bella ha un timbro particolare è molto giovane non sa stare sul palco lo so già l'ho vista l'esibizione non mi è piaciuto come sta sul palco ma è giovanissima dai sono qua apposta per imparare ma povera ma io soffro povera mi dispiace un sacco vedere ste cose non è un problema di mancanza di voce questo mi dà fastidio perché non è che le manca che che oggi sta male o magari oggi non stava neanche bene ma non è un problema che ha oggi è che hai sbagliato canzone strappi cosa vuol dire strappi jake che se poi il giorno del live il giorno sbagliato ma no ma non è il giorno del live il giorno sbagliato veramente hai sbagliato tu non è lei miele aspetta che adesso col miele becca un'ottava in più tra l'altro poi è pericoloso ragazzi si può fare veramente male già l'ho già detto nella puntata scorsa che lei secondo me ha qualche situazione vocale particolare adesso tu devi andare a letta alle 9 tutte le sere fino a giovedì se no tu giovedì non canti e su questo c'ha ragione cioè ragazzi siete a x factor datevi questo anno di clausura perché la voce la cosa che soffre di più è la stanchezza ok l'affaticamento vocale la stanchezza anche fisica cioè la voce non è sempre uguale tutti i giorni uguale dipende da come vi comportate io sinceramente prima di vedere l'esibizione io sono stata tutta l'esibizione attaccata così sulla sedia perché avevo paura che non arrivasse a quelle note tra l'altro non ho controllato le tonalità ma adesso controllerò forse è probabile che gliel'abbiano abbassata e sarebbe anche giusto con trai elma trai l'originale parte con questo re ok gliel'hanno abbassata ma non sono stati tanto buoni perché gliel'hanno abbassata di mezzo tono troppo poco per quanto mi riguarda su elma e adesso preghiamo mamma mia c'è un timbro bellissimo bellissimo lei deve fare uno sforzo in più per creare questo suono che cacchio di canzone gli ha dato vedete però che questo modo di stare sul palco cara che tra l'altro è per caso la stessa situazione di Dua Lipa perché non so se vi ricordate Dua Lipa come era inizialmente nei balletti ma povera la prima nota è arrivata quasi io c'ho paura veramente sentite che perde anche l'intonazione perché per lei è uno sforzo fare sta cosa you gotta get up and try and try and try and try e invece lei you gotta get up and try and try and try and try non vi ricorda l'esibizione della romanina dell'eurovision meglio brava allora secondo me la voce le si è scaldata e adesso va meglio ha preso meglio le note sinceramente vi dico già che a me Jake mi fa un sacco tenerezza io ho già visto che cosa ha detto dopo e mi viene da dire solo perdonateli non sanno quello che fanno ma in realtà lui poi la difende e si vede che ci tiene un sacco a difenderla e che prova una tenerezza nei suoi confronti perché no davvero mentore quindi dai vediamo andiamo avanti bellissimo allora Elma è veramente una presenza bella in questo show sei luminosa credo che tu debba essere un pochino più ferma tutte queste cose che ti girano intorno un pochino ti disorientano è vero è vero non è facile stare su quel palco se già magari sei uno che non ha il dominio del palco se sono le prime volte eccetera tutto questo ambaradan questo apparecchio che ti gira intorno può creare una grande confusione anche quella scala fatta così ci devi camminare sopra mentre stai cantando un pezzo che non sei neanche sicura è difficile qua di nuovo non è colpa di Elma è lui so che hai avuto delle difficoltà l'abbiamo visto nel daily con la voce sei una che canta bene l'areri un po' meccanica per forza infatti su questo voglio commentare lei in questo pezzo può solo essere meccanica perché non ha la libertà di cantarlo con variazioni ok ha ragione Paola ma la motivazione c'è se penso a Olivia Rodrigo a Ariana Grande 17 anni sul palco erano statuarie sì però ad esempio Ariana Grande quando aveva 17 anni da quanto tempo già faceva tv e questo e quello cioè tu hai una bellissima voce sono d'accordo con Paola anche meno movimenti anche immobile sono d'accordo su questa cosa qualche esibizione ferma in cui lei possa trovare il suo centro e cantare e basta senza distrarsi e senza far vedere i piccoli difetti che adesso Jake si secca e risponde e fa l'offeso scusate sto mangiando altronde abbiamo visto Lorenzo Salvetti che grande talento nel ballo che ha giusto quindi questa non me la ricordavo è un colpo proprio basso perché se l'è presa con un ragazzo per colpire l'altro giudice non si fa vabbè insomma per concludere su Elma ho già detto tutto quello che pensavo in ogni caso io le darei tutt'altri pezzi certo che vorrei restare sulla modernità perché è una ragazza giovanissima non le darei cose antiche da cantare però mi viene in mente ovviamente Sade o per esempio mi verrebbe in mente io le darei All is full of love di Bjork oppure Twisting my sobriety di Tanita Tkaram qualcosa di Annie Lennox che è vero sono tutte robe vecchie devo pensarci un po' su per tirar fuori qualcosa dei giorni d'oggi di Tanita Tkaram 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 di Tanita Tkaram